NPR Online Technologies ci propone un circuito composto da quattro condensatori C1, C2, C3 e C4 i cui valori di capacità sono rispettivamente pari a 50, 60, 20 e 40 nanofarad. Nel circuito sono indicati anche due morsetti A e B e ci viene chiesto di calcolare la capacità complessiva C a V che misuriamo in corrispondenza di questi morsetti. Per risolvere l'esercizio cominciamo a riconoscere il collegamento in serie tra C2 e C4 e sappiamo che due condensatori in serie generano una capacità complessiva data dal prodotto delle loro capacità diviso la loro somma. Quindi chiamiamo questa capacità serie C24 e questa capacità è ottenuta da C2 per C4 diviso C2 più C4. Andiamo a sostituire i valori di capacità di C2 e C4, 60 e 40 nanofarad. Possiamo lasciare i valori espressi in nanofarad perché per entrambi i condensatori abbiamo lo stesso sottomultiplo e da questo calcolo viene fuori 24 nanofarad. Quindi la capacità serie tra C2 e C4 è uguale a 24 nanofarad. Possiamo ora sostituire al nostro circuito, al posto di questi due condensatori, un unico condensatore che indicheremo C24 che, guarda caso, ha pure un valore di capacità pari a 24 nanofarad. Adesso possiamo continuare riconoscendo invece il collegamento in parallelo tra C3 e C24. Sappiamo dalla teoria che il parallelo di due condensatori genera una capacità complessiva data dalla loro somma. E allora la capacità complessiva l'andiamo a indicare come C234 ed è data dalla capacità di C3 più la capacità di C24. C3 ha un valore di 20 nanofarad, C24 ha un valore di 24 nanofarad, sono entrambe espresse con lo stesso sottomultiplo, dunque le possiamo lasciare espresse in nanofarad, ne facciamo la somma e otteniamo che C234 è uguale a 44 nanofarad. Ora, al posto di questi due condensatori ne andiamo a mettere solo uno che indichiamo con C234, il cui valore di capacità è stato appena calcolato ed è pari a 44 nanofarad. Continuiamo, riconoscendo ora il collegamento in serie tra C1 e C234, ricordiamo ancora una volta che questo si ottiene, e qui c'è un errore, lo andiamo a sistemare subito, come prodotto delle due capacità diviso la somma. E quindi il prodotto di queste due capacità è dato da 50 nanofarad valore di C1 per 44 nanofarad valore di C234 e la loro somma 50 più 44. Viene fuori un valore pari a 23,40 nanofarad e questa è la capacità complessiva data dal collegamento serie tra C1 e C234. L'abbiamo indicata appunto C134. Bene, a questo punto ai morsetti A e B vediamo un'unica capacità, che è C1234, il cui valore è 23,40 nanofarad. Possiamo dunque dire che ai morsetti A e B vediamo una capacità che è pari a quella di C1234, che è uguale a 23,40 nanofarad. E questo rappresenta la soluzione del nostro esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima!